buongiorno ogni tanto mi faccio fare il punto sull'attività del canale su quello che sta succedendo su quello che è successo e lo faccio con un video perché non riesco a usare altre altri strumenti sono un po imbarazzanti per me il punto che volevo fare attualmente è che sta succedendo comunque qualcosa dopo quello che era avvenuto non molto tempo fa nel quale c'era stata una diciamo una grande pulizia soprattutto dei video che avevano fatto che avevano interessato di più che avevano fatto più visualizzazioni insomma no e questo in seguito come voi sapete alla diciamo l'avvertimento che ho avuto che non si potevano usare per motivi di copyright libri da leggere anche gratuitamente se non erano trascorsi almeno 70 anni dalla morte del dell'autore e poi altre restrizioni che però non sono riuscito a concretizzare perché la legge è molto fumosa in questo senso e lo è leggevo anche un libro di un autore insomma che ha dedicato un buon libro bello che troverete anche troverete poi anche su su liber liber potete scaricare gratuitamente che analizza tutti i problemi e cosa è successo nel tempo della normativa del copyright insomma e come si è evoluta in senso sempre ristrettivo per quello che riguarda il fair use insomma l'uso libero delle delle opere in questo caso dei libri dovuto tirar via tanti libri libri che mi erano costato che mi erano costati fatica no lavoro impegno a leggere tra l'altro alle fine di quest'anno sono dieci anni di attività del canale 10 anni e quindi adesso è un po del materiale che è lì insomma no che non come dire lavoro sprecato materiale che riposa in cerca come i personaggi in cerca d'autore insomma di pirandello in cerca in questo caso più che d'autore insomma in cerca di uso che farne sta di fatto che da quando è stata fatta questa pulizia il canale è ovviamente come dire è calato è calato nel senso che era arrivato più o meno l'anno scorso verso questa stagione a a contare 1200 iscritti al mese insomma più o meno adesso il numero di iscrizioni al mese sono diminuite di tre quarti insomma adesso si arriva il canale arriva 300 più o meno iscritti al mese allora mi chiedo magari è diminuito l'interesse oppure non c'è più il richiamo che avevano quei libri resta di fatto che nonostante che il canale abbia oltre 20.000 iscritti quindi la quantità di visualizzazioni di ogni singolo video è bassa i video postati nuovi raggiungono sì e no 200-300 visualizzazioni insomma no raramente deve succedere qualcosa queste visualizzazioni superano il migliaio allora mi chiedo anche perché perché insomma se ci sono 20.000 iscritti diciamo un singolo video non raggiunge che una minima parte di questi iscritti tra l'altro più o meno vedevo anche dai dati insomma che 4-5.000 persone sono tolte dal canale allora ti viene da chiedere perché nel senso cosa c'è da perdere a rimanere iscritti a un canale che tutto sommato ti ha sempre offerto delle proposte alle quali ero libero di accedere o no ma che comunque erano delle proposte insomma erano delle cose che ti venivano insomma in maniera libera dico potevi usufruirmi o no ma insomma erano delle cose che c'erano però insomma vabbè i gusti sono gusti insomma quindi c'è questa situazione poi ti tiene conto della pulizia e delle conseguenze di questa pulizia c'è un po' il fatto che come ho già detto insomma nell'ultimo periodo non sono stato troppo bene nel senso che ho niente di grave ma ho un problema alla spalla e questo problema alla spalla attualmente lo sto un po' curando ma la cura soprattutto è quella anche di stare più lontano insomma dalla poltrona nella quale spesso mi trovo a leggere ma come ho già detto anche questo altre volte il problema della lettura si compone o delle letture insomma di quello che si posta di queste letture dei romanzi si articola in due fasi una è quella della lettura vera e propria che occupa una quarte che occupa una certa parte del tempo ma una parte minore l'altra è quella della correzione e del lavoro diciamo viene chiamato mi pare da chi lo fa in maniera post-laborazione insomma e questa post-laborazione richiede un tempo grande richiede una fatica una fatica anche proprio di stare col mouse continuamente un'attenzione insomma per correggere tutti gli eventuali errori eccetera e poi per cercare di migliorare il più possibile la qualità audio che visto che il mio lavoro non viene fatto purtroppo in uno studio di registrazione insomma questi difetti ci sono perché ci sono tante interferenze con l'ambiente e quindi insomma richiede il tempo necessario per cercare di eliminare al massimo questi difetti interruzioni che ci sono quando stai leggendo interviene un rumore una distrazione insomma tutto quello che va dietro è il fatto che si lavora da casa poi c'è anche il fatto che io non lavoro da solo faccio queste cose da solo chiamiamola lavoro chiamiamola passione chiamiamola divertimento non lo so cosa sia il lavoro di ricerca insomma delle cose da leggere sia la lettura sia la post produzione faccio tutto da solo non ho nessun aiuto alle spalle e quindi il tempo è importante il tempo ma è il tempo anche poi di stare fermi seduti al computer quindi sono tante ore al giorno insomma tante ore che faccio un po' fatica ormai a reggere allora il problema è anche questo cosa fare per il futuro come come organizzarsi io vorrei organizzarmi in modo tale da poter fare le stesse cose ma dedicando il minor tempo soprattutto il minor tempo alla post produzione quindi vorrei trovare qualcuno che mi aiuti a fare questo lavoro che è un lavoro che richiede parecchie ore al giorno insomma se si leggono libri no si produce bisogna fare molto lavoro di post produzione però è difficile trovare qualcuno che possa fare aiutarti a fare questo lavoro intanto glielo devi anche un po' insegnare un po' spiegare come si fa come desideri che sia fatto ma è difficile trovare qualcuno che lo faccia gratuitamente per cui se il mio lavoro lo posso fare gratuitamente tra parentesi dopo che ho tolto questa cosa qua mi hanno ridato la monetizzazione ma tanto per chiarire insomma a chi potesse fare delle insinuazioni la monetizzazione che ho attualmente equivale a un po' meno di 30 euro al mese non al giorno al mese quindi diciamo non basta neanche per le spese per le spese diciamo di semplicemente di materiale che servono insomma allora che fare ho chiesto un contributo insomma no come vedo che anche diciamo anche le associazioni insomma anche coloro che possono contare citiamone una liber liber insomma no che possono contare anche su contributi intendo dire il 5 per 1000 chiedono anche loro dei contributi contributi minimi non so 2 euro chiede liber liber mi pare come donazione libera ovviamente no perché le spese ci sono insomma perché fare queste cose comunque ha un costo al di là del tempo che tu ci metti e del tuo lavoro che ci puoi mettere gratuitamente nel mio caso se voglio tirarmi fuori il più possibile e continuare a produrre delle cose che ritengo interessanti togliendomi di dosso la parte della postproduzione per quanto possibile dovrei trovare una persona che lo faccia al posto mio e per trovare una persona che lo faccia al posto mio come dire bisognerebbe darle qualcosa insomma bisognerebbe pagarla come fare da un po' di tempo ho chiesto una donazione come ho già osservato alcuni mi hanno fatto delle donazioni anche anche di una cifra di un certo rilievo secondo me per una donazione poche persone per la verità però queste persone le ringrazio ancora quello che è mancato e che magari mi sarei aspettato era la donazione di un euro diciamo così una donazione simbolica di un caffè non dico neanche al mese ma ogni tanto insomma no che attraverso Paypal una certa percentuale di questi 20.000 che si sono iscritti al canale e che rimangono iscritti desse un euro insomma se lo moltiplichiamo per un certo numero questo euro poteva costituire una cifra che permette di proporre a qualcuno di fare questo lavoro e di retribuirlo insomma di retribuirlo in qualche modo per poter poi mettere mettere questi video questi audiolibro in rete ho visto che altri canali per esempio non so che fanno anche attività simile alla mia propongono gadget propongono cose così insomma forse lo suggerissi anche youtube insomma di fare queste cose a me non piace vendere magliette non sono incapace tra l'altro di vendere la cosa che che ho pensato insomma che vi propongo con i limiti insomma è che comunque chiedere denaro è sempre è sempre una cosa fastidiosa almeno per me insomma però una cosa mi sembrava che poteva essere possibile un compromesso possibile mi sembrava questo ho letto ho fatto il conto no ho letto cinque grossi romanzi di Dostoevsky e Dostoevsky è un diciamo è una lettura che va fatta chi ama leggere insomma Dostoevsky lo deve aver letto nel bene e nel male insomma no non si può vivere una vita da lettore senza aver letto almeno i grossi romanzi di Dostoevsky allora li ho ripresi in mano ultimamente nel senso che ho cercato di migliorarne il più possibile non è una qualità eccessa ma insomma ho cercato di migliorarne la qualità audio e questi grossi romanzi sono i fratelli Karamazov i demoni l'idiota umiliati ed offesi delitto e castigo ma questi si aggiungono magari li posterò uno l'ho postato in parte il Sosia ma poi ho letto anche altre cose di Dostoevsky però insomma di questi romanzi a cui ne aggiungerei due che non sono di Dostoevsky ma che sono comunque fondamentali grossi romanzi di cui ho fatto la lettura integrale che ho anche qua rivisto per quello che riguarda i file che li compongono sono i Promessi Sposi e Moby Dick proporrei questo invece delle magliette proporrei che chi fa una donazione al canale di 10 euro o più a delibitum insomma volendo io faccio avere un romanzo intero cioè i file che compongono l'intero romanzo in modo che li possa avere a casa in forma audio e se li posso ascoltare o mettere in un DVD insomma quindi possa essere un qualcosa che magari può trasferire regalare volendo volendo se qualcuno contribuisce anche alle spese postali posso mandare anche per posta ovviamente mi deve mandare l'indirizzo il DVD di uno di questi romanzi magari gli metto anche la firma tanto per ormai va di moda mettere la firma del in questo caso del lettore ovviamente quella di Dostoyevsky non mi la posso vedere questo potrebbe essere un modo secondo me con 10 euro non si compra un audiolibro da di 45 ore di lettura insomma no comunque io volentieri farei questo insomma chi fa una donazione al canale di 10 euro o più se vuole ma insomma 10 euro va bene faccio avere il file completo di uno di questi cinque romanzi di Dostoyevsky oppure dei Promessi Sposi oppure di Moby Dick questa può essere una via l'altra via che volevo percorrere era questa che a parte questi romanzi ne sto postando molti altri attualmente sto sono un po' avanti ma insomma non ho ancora finito la nascita della tragedia di Nietzsche sto leggendo un po' alla volta le operette morali di Leopardi che posterò progressivamente oltre a buona parte dei canti poi insomma ovviamente i canti li trovate letti da tanti attori molto bravi insomma forse non vi interesserà particolarmente la mia versione dei canti di Leopardi ma a chi potrebbe interessare bene ho letto la signorina Else di Schnitzler una cosa che va sicuramente letta e ascoltata perché è una delle prime forme che precedono anche Joyce per quello che riguarda il flusso di coscienza monologo interiore flusso di coscienza e allora quella che è la mia intenzione è che nel momento in cui posterò dei romanzi importanti di un certo impegno come come ho fatto per esempio con il Sozia sempre di Dostoevsky che che sono sette ore erotti di lettura farò così posterò l'incipit del romanzo e poi scriverò sotto chi vuole avere il resto chi è interessato a sentire l'integrale del romanzo mi scriva e mandi una mail e mi dimostri di aver fatto tramite Paypal una donazione al canale di almeno un euro chiedo un euro un caffè non è che chiedo che chiedo il costo di un audiolibro saprò che è anche interessato allora chi mi dimostrerà di essere interessato a quell'opera e lo farà sottoscrivendo un euro beh a questo gli manderò sempre attraverso WeTransfer probabilmente gli manderò l'integrale il file con l'integrale di quel romanzo sono sempre romanzi in questo caso in cui l'autore è morto da più di 70 anni quindi insomma spero almeno credo che non siano vincolati dal copyright dal diritto dal diritto d'autore quindi farò così insomma regolatevi se volete sentire l'integrale di quel romanzo ovviamente letto da me quando trovate scritto queste cose sotto quel libro potete fare così mi mandate una mail attraverso la quale mi dite sono interessato e io vi manderò l'intero l'integrale del romanzo di cui potrete farne quello che volete insomma oppure vi metterò in situazione di poter leggere l'integrale di quel romanzo per quelli che che sono entrati nel canale da poco che non sanno quello che è stato postato vorrei ricordare anche alcuni titoli che sono stati offerti gratuitamente sempre insomma in lettura integrale in questo canale e che ho dovuto ritirare tra questi non so nel mare ci sono i coccodrilli mattatoio numero 5 la fattoria degli animali di Orwell in culo al mondo di Antunes moltissimo di Borges molti racconti quasi diciamo quasi quasi tutto finzioni e quasi tutto un calcio in bocca fa miracoli di Presta i barbari il saggio di Baricco novecento sempre di Baricco le memorie di Adriano le memorie delle mie puttane tristi di Marquess l'amante di Marguerite Duras moderato cantabile sempre della Duras donne di Bukowski Siddhartha l'invenzione di Morel la promessa di Duremat Calvino le città invisibili le elezioni americane 1984 il vecchio il mare che ho ripostato la commedia umana di Saroyan neve di Fermin il violino nero sempre di Fermin il vecchio con gli stivali di Brancati molti racconti di Hemingway Roth Philip Roth il lamento di Portnoy Patrimonio l'animale morente il seno Oceano mare di Baricco le nostre anime di notte di Aruf la briscola in cinque di Marco Valdi l'amico ritrovato di Ullman il mito di Sisifo di Camus lo straniero sempre di Camus Letta era una professoressa Alexis Fontamara la leggenda del santo bevitore il racconto dell'isola sconosciuta di Saramago Travolte all'alba di Baricco beh la gran parte di queste cose sono state postate in maniera integrale e sono state tolte perché ho dovuto toglierle insomma nel senso che avevo ricevuto come ho detto come ho già detto una ingiunzione però sono state oggetto di un lavoro insomma dove altro mi piacerebbe poi rivolgere l'attenzione mi piacerebbe rivolgere l'attenzione a quella che a quello che è il mondo del degli scrittori no ho fatto come dicevo un tentativo di lettura e lo è in fase di pubblicazione insomma di un audiolibro scritto da da una persona che che mi ha contattato e mi ha chiesto di di leggere questo libro insomma come abbiamo fatto questo libro è in via di pubblicazione magari ne ne metterò un frammento su youtube e verrà postato probabilmente su audible verrà venduto al prezzo di due euro che ci divideremo in parti uguali un euro a testa se qualcuno lo comprerà però tra l'altro è anche piuttosto carino insomma ci sono delle riflessioni interessanti è un esperimento questo che si potrebbe anche ripetere con persone che hanno scritto dei libri o un libro insomma e che non hanno vincoli editoriali non so ancora cosa possa portare l'alternativa al fatto di venderlo o di proporlo su audible a questo prezzo sarebbe quello di appunto di metterlo di proporlo sul sul canale e di farlo avere a chi fa una donazione di in questo caso di due euro per quel libro questa è un'alternativa oppure è un autore di un eventuale libro che mi chiede di leggerlo di farne un audiolibro cosa che ovviamente deve anche interessare me voglio dire devo sentire una certa sintonia con questo libro da leggere non posso promettere di leggerli tutti o di leggerli a tutti se il libro mi piace se sento una certa sintonia è una cosa che si può fare saltando diciamo l'editore un eventuale editore pubblicando direttamente un audiolibro e poi vedendo vedendo come come si può pubblicare insomma c'è questa possibilità di pubblicarlo su attraverso posso anche fare il nome insomma you can print che è un un sito di autoproduzione insomma che ha poi la possibilità di di metterlo su audible un'altra cosa invece diciamo più interessante che non ha gli svolti economici che mi piacerebbe invece poter fare nel canale è di dedicare del tempo dei video a delle interviste insomma no a delle interviste o con scrittori o con persone insomma del mondo della cultura oppure di persone che abbiano degli interessi anche del mondo della musica insomma in cui queste persone abbiano un po' lo spazio di raccontarsi insomma un po' di conversare non soltanto di farsi una promozione ma insomma di di parlare di se stessi in maniera abbastanza libera di interloquire con con me e quindi di fare un qualcosa che possa avere un interesse e l'interesse è quello di conoscere un po' più a fondo delle persone che fanno qualcosa o che pensano qualcosa e che abbiano la possibilità con calma senza senza contingentamento di tempi di parlare di se stesse delle loro motivazioni anche della loro visione del mondo questa è una cosa che mi piacerebbe fare dovrei farla però a casa mia quindi qualcuno si dovrebbe proporre insomma se qualcuno ha voglia di usare anche le vie del canale per poter parlare di quello che fa di quello che pensa di quello che che lo muove nella vita o di fare quattro chiacchiere con me mi proponga ovviamente disposto a venire un pomerizzo a Padova ecco queste sono alcune cose che che mi piacerebbe fare che volevo dirvi volevo anche giustificare insomma il perché di questa richiesta in qualche momento di un contributo a tener vivo il canale e spingervi anche se volete se ritenete che questa cosa sia utile che le proposte che vengono fatte siano interessanti al di là della qualità della lettura o della voce che magari può piacere o non piacere come si è detto tante volte però insomma se volete tenere vivo qualcosa che secondo me come dire un piccolo contributo alla cultura lo dà e non altro per le opere che vengono proposte insomma ecco se potete rinunciare a un caffè e fare una piccola donazione perché è l'insieme delle piccole donazioni insomma no magari fatte una volta ogni tanto insomma che possono dare la sostanza insomma no adesso siete in tanti insomma anche se soltanto uno su 20 di voi facesse una donazione una volta al mese una volta ogni due mesi di un euro insomma il canale potrebbe potrebbe avere una sua vitalità la vitalità che viene nel poter come dire la disponibilità per cercare qualcuno che collabori e che e dal quale non si può pretendere un un lavoro gratuito insomma no io lo posso fare perché così insomma perché lo decido di farlo ma non lo posso chiedere giustamente insomma a un altro di cui in questo momento comincio a sentirne bisogno insomma mi piacerebbe dedicarmi di più a leggere soltanto insomma no allora diciamo potrei usare anche più tempo libero cosa di cui tra l'altro ne ho anche bisogno un po' sia per una questione posturale sia anche per una questione di di curare questo piccolo accidente che mi è capitato e allora vi ringrazio e ti salutiamo buon pomeriggio grazie a tutti